Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani e sono una maestra di connessioni angeliche. Benvenuto e benvenuta e complimenti per esserti registrata per guardare questo training. In questo video ti mostrerò qualcosa di veramente potente, che ha cambiato completamente la mia vita e sta cambiando la vita ad altre persone. Vuoi imparare a connetterti con gli angeli? Scopri i tre segreti sconosciuti al 90% dei canali di luce per connetterti direttamente con gli angeli più elevati in assoluto, con la protezione dell'arcangelo Michele, per ritrovare maggiore allineamento con la tua anima e col tuo scopo divino. Mi raccomando, ti chiedo durante questa presentazione di focalizzare completamente la tua attenzione, perché sono certa che le informazioni che starai per ricevere sono di fondamentale importanza per la tua crescita personale e spirituale. La singola cosa più importante è che tutti possono imparare a connettersi con gli angeli in maniera corretta grazie alla sacra protezione dell'arcangelo Michele. Devo dire grazie all'arcangelo Michele perché grazie a lui sono riuscita a trovare il modo per connettermi con gli angeli in sicurezza e senza entrare in contatto con esseri di bassa frequenza. La protezione dell'arcangelo Michele crea uno spazio sacro, armonico e protetto. Vediamo il problema più grande o meglio gli ostacoli più grandi che potreste trovare nel vostro percorso spirituale. Potreste diciamo accumunarvi ad avere delle caratteristiche simili. Adesso vediamolo nello specifico. Vuoi sviluppare le tue capacità di connetterti con i tuoi angeli? Perché senti una chiamata da dentro. Oppure hai delle doti naturali, senti l'energia intorno a te degli ambienti e delle altre persone. Questo dono viene anche chiamato chiaro senzienza. Oppure hai una forte intuizione, capisci quando le persone non dicono la verità. Oppure fai dei sogni premonitori. Ancora ricevi delle informazioni ma non sai esattamente chi le trasmette e dalle volte entri in confusione. Oppure anche se non hai mai sentito gli angeli senti di volerti connettere con loro per ricevere guida ed assistenza. Ricevi messaggi precisi che si realizzano ma non sai mai quando arrivano. Ancora vedi i segni degli angeli ovunque come numeri doppi, piume, cuori eccetera. oppure i messaggi che ricevi alle volte sono esatti, alle volte poco chiari. Sei bravo o bravo a canalizzare ma vuoi approfondire queste tematiche ed imparare la protezione psichica e magari raggiungere un livello successivo alla tua evoluzione, alla tua preparazione per completare la tua formazione. oppure sei stata attaccata da forze di bassa frequenza e non sai come fare per proteggerti e questo è diciamo molto comune soprattutto nelle persone molto sensibili alle energie. Oppure sei in grado di percepire le forze più elevate ma anche le forze più basse che ti prosciugano e che ti scaricano energeticamente. Ancora non sai mai se puoi fidarti dei messaggi che ricevi. Hai delle sensazioni ma non ti fidi. Oppure sei poco sicura di te stessa o poco sicuro di te stesso. Oppure sei una persona empatica, sensibile alle energie e hai paura di entrare in contatto con esseri di bassa frequenza. O magari addirittura vuoi essere sicura che la persona a cui ti affiderai per imparare queste tematiche sia una persona affidabile ed integra. Ok se anche solo una di queste caratteristiche ti appartengono sei nel posto giusto. Vediamo cosa vedremo oggi. L'elemento numero uno in assoluto più importante che riguarda la connessione diretta con gli angeli più elevati con la protezione dell'arcangelo Michele che ci consente di creare uno spazio sacro armonico e protetto. I quattro errori più comuni commessi dagli operatori, detti anche canali di luce, che una volta risolti ti consentiranno di sentire al cento per cento di essere in connessione con gli angeli più elevati in assoluto, ossia gli angeli della coscienza micaelica. Ancora come diventare un canale pulito attraverso la più potente tecnica di purificazione giornaliera dei chakra per radicare la tua energia fino alla terra consentendoti di sentirti centrata, radicata e in equilibrio. Ancora casi studio come tutti i miei studenti nei miei corsi online e nei seminari in presenza sono riusciti facilmente e velocemente a connettersi con i propri angeli. I tre segreti sconosciuti al 90% degli operatori della luce, detti anche canali di luce, per connetterti direttamente con i tuoi angeli, con la protezione dell'arcangelo Michele per ritrovare maggiore allineamento con la tua anima e col tuo scopo divino. Bonus, una sorpresa speciale gratuita che rivelerò alla fine di questa presentazione del valore di 444 euro e molto molto di più. Perché dovresti prestare attenzione? Ti racconto un po' di me. Nel 2009, dopo una gitta alle tombe dei giganti, precisamente le tombe del Limizzania Palau in Sardegna, ho iniziato a sviluppare le mie capacità di sentire e di percepire le energie sottili delle persone e degli ambienti intorno a me. Ho iniziato a sviluppare il dono della chiaro senzienza, un dono straordinario, utilissimo per aiutare le altre persone ma che allo stesso tempo comporta l'importanza di una protezione adeguata perché se no si tende ad assorbire i pesi energetici delle altre persone. Per questo motivo io ho iniziato una grande ricerca spirituale, ho studiato con i più grandi maestri da Eric Perl nel riequilibrio energetico fino ad arrivare a Dorin Virtu che all'epoca era considerata la massima esperta di angeli. Per me lei è stata fondamentale per aiutarmi in particolare a riconoscere la frequenza dell'arcangelo Michele in quanto era la voce che spiccava tra il coro di tutti gli angeli che mi parlavano e diciamo che ho deciso di approfondire quindi il tema degli angeli proprio con lei partecipando a tre dei suoi seminari Riccione nel 2012, Londra nel 2014, Maui nel 2016. Diciamo che poi col tempo diventavo sempre più sensibile alle energie e ho dovuto interrompere la mia pratica come canale di luce e come facilitatrice del riequilibrio energetico perché assorbivo il peso energetico delle altre persone. A partire dal 2013 ho trascorso tre anni in preghiera e meditazione con l'arcangelo Michele che mi ha trasmesso degli insegnamenti fondamentali tra cui l'importanza della protezione energetica. Sotto consiglio dell'arcangelo Michele ho creato così un nuovo modo di lavorare con gli angeli che si adattasse alla mia nuova sensibilità consentendomi di aiutare le altre persone senza assorbirne i pesi energetici appunto grazie alla protezione psichica dell'arcangelo Michele. Negli ultimi sette anni ho lavorato con più di 800 persone con le sessioni private nei seminari in presenza e nei corsi online. Ricordiamoci una cosa fondamentale tutti possono imparare a connettersi con gli angeli più elevati della luce nella maniera più corretta. Vediamo alcune testimonianze è molto importante vorrei precisare queste testimonianze le trovate sul mio canale youtube chiamato connessioni angeliche. Parliamo di Cristiane Rankin nella sua testimonianza racconta la sua esperienza che reputa un'esperienza bellissima. Racconta come ha ricevuto guida ed assistenza in maniera esatta grazie alla protezione psichica dell'arcangelo Michele e a tutta la preparazione energetica che è stata fatta prima del percorso necessaria prima di iniziare questo lavoro. I messaggi arrivavano in maniera molto fluida messaggi autentici che provenivano dal cuore messaggi pieni di verità privi di ego sente di aver fatto un salto di qualità. Abbiamo anche la testimonianza di Gina ha sentito un forte radicamento con lucidità grazie a tutte le meditazioni e preghiere quindi praticamente lei ha sentito proprio una grande centratura un forte radicamento alla terra non aveva mai provato una sensazione del genere ricordo che lei mi disse che tendeva ad essere sempre nei piani più alti di voler non riuscire a vivere bene in questo piano della materia invece dopo questa esperienza dopo questo seminario ha esperienziato la connessione col radicamento non aveva mai canalizzato prima era la sua prima esperienza è riuscita a ricevere messaggi per se stessa e per gli altri ringrazia per l'esperienza e sente di voler continuare il suo percorso di connessione di perdono per la sua crescita personale e spirituale. Abbiamo ora la testimonianza di Mina. Mina era piena di emozioni di gioia la voglia di trovare se stessa l'ha spinta a frequentare il seminario in presenza di connessioni angeliche non credeva di fare un'esperienza così forte non credeva di riuscire a ricevere i messaggi degli angeli invece è riuscita ad aprire il suo cuore a perdonare a lasciare andare dentro sentiva un'emozione fortissima di amore ha ricevuto messaggi chiari e precisi ricchi d'amore puro abbiamo ancora alberto donella che spiega come il corso è stato molto potente nonostante si trattasse di un corso online spiega come la protezione sia stata fondamentale per ricevere le informazioni corrette ed evitare interferenze ha ricevuto molti messaggi ed intuizioni di amore puro si è sentito guidato e protetto bene ora vediamo questo questa formazione questo training ok quali sono i quattro errori dei canali di luce il primo errore non purificarsi prima di facilitare una lettura angelica intesa come lettura delle carte o anche come connessione diretta quindi una vera e propria canalizzazione imparare la purificazione energetica prima di ogni sessione di lettura angelica è fondamentale per sentirsi centrati e radicati bisogna essere dei canali puliti per facilitare una lettura angelica sia con le carte che come connessione diretta errore numero 2 non usare la protezione psichica prima di facilitare una sessione di lettura angelica con le carte o come connessione diretta imparare la protezione psichica giornaliera è fondamentale per non rischiare di entrare nell'ego o di ricevere interferenze o intromissioni di bassa frequenza errore numero 3 non riuscire a richiedere un compenso per le sessioni di lettura angelica delle carte come o come connessione diretta o farle pagare a basso costo molti operatori o diciamo listici canali di luce devono sciogliere i voti di povertà e cambiare i propri sistemi di credenze che gli stanno impedendo di ricevere l'abbondanza infinita che meritano e di cui sono degni per diritto di nascita ebbene molti operatori della luce o canali di luce hanno paura a chiedere soldi in cambio delle proprie prestazioni però le persone perché è anche un discorso di sistemi di credenza della coscienza collettiva però diciamo che le persone si devono rendere conto quanta energia vitale richiede fare una lettura angelica quanto quanto lavoro c'è dietro come preparazione appunto nella purificazione nella liberazione nella protezione e nel radicamento quindi è un lavoro che merita di essere retribuito ma questo lo vedremo dopo errore numero 4 molti operatori o canali di luce hanno delle forti resistenze nell'investire nella propria formazione cioè molte persone vogliono prendere le informazioni gratuitamente non investono nella propria formazione e poi magari rischiano di incombere in in errori che poi possono essere anche degli errori che possono compromettere il proprio lavoro spirituale la propria crescita spirituale quindi è bene formarsi informarsi anche soprattutto con maestri che hanno una certa esperienza in questo settore della connessione ok della connessione con gli angeli investire su noi stessi velocizza il nostro percorso evolutivo personalmente ho deciso di investire su me stessa a partire dal 2009 ho iniziato col riequilibrio energetico con eric pearl ma poi a partire dal 2012 ho iniziato a studiare gli angeli con dorin virtu come ho detto prima ho partecipato a tre dei suoi seminari approfondire la conoscenza degli angeli mi ha permesso di riconoscere la voce più vera che spiccava tra il coro che appunto la voce dell'arcangelo michele e degli angeli della coscienza amica elica grazie alla guida divina che ho ricevuto con chiarezza e tanto amore ho avuto la possibilità di comprendere il mio vero scopo nella vita vediamo ora nello specifico i tre segreti che il 90 per cento degli operatori canali di luce non conoscono segreto numero uno anche le persone più empatiche o più sensibili all'energia e quindi le persone che hanno il dono della chiaro sensienza possono imparare a connettersi correttamente con gli angeli grazie alla protezione sacra dell'arcangelo michele ora vediamo la struttura della preghiera che io utilizzo per proteggermi ok bisogna chiedere all'arcangelo michele di aspirare tutte le energie di paura che potresti aver assorbito dagli ambienti e dalle altre persone bisogna chiedere che siano tagliate tutte le corde tra te e il ricevente quando offri una lettura angelica ok che siano elevate le energie vibrazioni e frequenze che siano sintonizzate nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato che sia creato uno scudo di protezione impenetrabile dalle energie più dense così dentro così fuori naturalmente nei miei corsi di connessione angelica verranno date in dotazione tutte le preghiere meditazioni da utilizzare giornalmente prima di ogni sessione di lettura angelica segreto numero 2 meditazione per purificare l'energia in tutto il campo energetico e nei chakra per radicare le energie fino al centro della madre terra vediamo la struttura della meditazione di purificazione con l'arcangelo michele prima di facilitare una sessione di lettura angelica l'arcangelo michele viene invitato ad aspirare tutte le energie egoiche dentro di noi e intorno a noi vengono tagliate tutte le corde tra te l'altra persona poi si parte dall'alto verso il basso a partire dal dodicesimo chakra fino al primo chakra e si va a dedicare l'energia fino al centro della madre terra ok e poi c'è un interscambio di luce di amore dall'alto verso il basso dal basso verso l'alto e poi l'energia si espande oltre la madre terra diciamo è una meditazione molto potente che aiuta le persone a sentirsi centrati e massimo equilibrio naturalmente nei miei corsi di connessione angelica verranno date in dotazione tutte le preghiere le meditazioni da utilizzare giornalmente e prima di ogni sessione di lettura angelica segreto numero tre con questo veramente non lo conoscono in pochissimi in quanto è una mia scoperta proprio arrivata dall'arcangelo michele in un momento determinante della mia vita è il processo di liberazione per sciogliere i voti e liberarsi da tutto ciò che ho posto all'amore il processo di liberazione ti libera dai voti dei patti dagli accordi dalle promesse dai legami con entità bad di bassa frequenza che riguardano questa vita o le altre vite dal karma ancestrale familiare c'è una liberazione completa e totale che consente alla persona di diventare veramente un canale pulito in massima connessione con le sole frequenze di sola luce di amore puro con i soli angeli di vera luce di amore puro allora il processo di liberazione uno strumento potentissimo per liberarsi da tutto ciò che denso energeticamente ed è una risorsa che potete trovare gratuitamente nel mio sito internet connessione angeliche puntocom nelle risorse gratuite oppure nel mio canale youtube di connessioni angeliche quello che ti ho mostrato è l'intero processo ora potresti chiederti potresti porti delle domande posso facilitare le letture angeliche pregando a modo mio solo le persone sensibili si devono proteggere dove posso imparare tutte queste cose posso imparare a connettermi con gli angeli anche se non ho mai avuto esperienze di connessione io non sono religiosa l'arcangelo michele mi protegge lo stesso bene hai due opzioni la prima è quella di prendere queste informazioni e applicarle da solo o da sola la seconda è quella di lavorare a stretto contatto con me nel mio nuovo corso dal vivo online dal vivo perché sono io presente anche se online lavoreremo su zoom ok un lavoro di sei settimane per imparare a connetterti con gli angeli della coscienza micaelica e ritrovare maggiore allineamento con la tua anima e col tuo scopo di vita ma chi sono gli angeli della coscienza micaelica l'arcangelo michele è l'angelo più potente in assoluto è l'angelo che si è elevato per esempio nella coscienza di dio nel senso che è l'angelo che mai ha tradito l'amore che mai ha tradito dio e tutti gli angeli in comunione di intenti con l'arcangelo michele fanno parte della cosiddetta coscienza micaelica bisogna comprendere sapere e conoscere che nel piano astrale vi sono degli esseri che la new age considera angeli ma sono esseri che da una parte ti aiutano dall'altra prendono la tua energia sono esseri duali alcuni diciamo sono nell'ego altri stanno ancora lavorando per trascenderlo ok quindi sono esseri non non evoluti come gli angeli della coscienza micaelica che invece hanno trasceso completamente l'ego e sono nell'unione sacra dell'amore più grande e della luce più potente in assoluto ok bene ci tenevo a precisare questo allora ora andremo a vedere cosa faremo insieme in questo percorso meraviglioso premetto che il percorso si suddividerà in tre fasi principali sono tre livelli di comprensione di elevazione di connessione va bene saranno sei settimane di grande formazione e di riallineamento all'energia di puro amore degli angeli questo corso indicato per tutti coloro che sentono fortemente di volersi ricollegare con la propria anima e che vogliono stabilire o rafforzare la propria connessione con l'arcangelo michele i propri angeli custodi si lavorerà in un ambiente purificato e completamente sicuro e protetto imparerete a purificare l'ambiente in cui terrete le vostre letture angeliche e la vostra intera casa imparerete a purificare voi stessi imparerete a riconoscere i messaggi dei vostri angeli custodi la fase numero uno per iniziare lavoreremo con le carte degli angeli che faciliteranno la ricezione dei messaggi attraverso la simbologia i disegni ma imparerete soprattutto ad ascoltare le vostre sensazioni ed intuizioni ricevendo la guida dei vostri angeli custodi e dell'arcangelo michele attraverso le immagini o la voce interiore piuttosto che con il vostro pieno sentire in base ai vostri canali più aperti cioè se voi avete il canale della visione molto probabilmente si svilupperà la vostra capacità di vedere le immagini di vedere come lo scorrere di un film di avere intuizioni chiare e precise attraverso il canale della visione appunto vediamo la fase numero due attraverso meditazioni mirate verrà fatto un grande lavoro di purificazione liberazione radicamento e centratura questo comporterà un'elevazione delle frequenze del campo energetico di ogni singolo partecipante i partecipanti dopo questa intensa preparazione saranno pronti ad accedere ad un livello di connessione molto più profonda con la propria anima e con l'arcangelo michele attraverso la scrittura ispirata che differisce dalla scrittura automatica nella scrittura automatica l'entità guida le mani delle persone che scrivono e normalmente viene utilizzata questa modalità quando si parla di medianità la scrittura ispirata un'altra cosa nella scrittura ispirata insegnata da me la persona sentirà la connessione con l'arcangelo michele e con gli angeli della coscienza micaelica che fungono da intermediari con la propria anima normalmente questa connessione viene percepita riconosciuta come voce interiore che arriva dall'interno del proprio sacro cuore fase numero 3 nella parte finale del corso si lavorerà anche nella ricezione trasmissione dei messaggi attraverso la connessione diretta il livello più più elevato in assoluto cioè si avere propria canalizzazione cioè si ricevono i messaggi direttamente che partono appunto dal dentro il cuore o che arrivano diciamo dal dodicesimo chakra quindi la luce entra a partire dal settimo chakra e arriva come informazione viene tradotta come informazione quindi non viene utilizzata la scrittura si imparerà così a facilitare la lettura angelica sulle altre persone bene prima di parlarti dell'investimento vorrei parlarti dei bonus sono dei bonus gratuiti ok quindi ho deciso di aggiungere dei regali al corso che già è completo così in sé però ho voluto aggiungere questi regali aggiuntivi abbiamo il bonus numero uno protezione psichica sessioni di coaching aggiuntive dove verrà spiegato tutto sulla protezione psichica e verrà dato in dotazione tutto il materiale necessario anche quando finirà il percorso di coaching questo ha un valore di 500 euro vediamo quali sono queste lezioni aggiuntive perché proteggersi chi è l'arcangelo michele cos'è la protezione psichica giornaliera cos'è la purificazione cos'è il radicamento come elevare le proprie frequenze ritornare all'equilibrio essere la guarigione verranno date quattro preghiere ed una meditazione in formato pdf ed mp3 offerte in dotazione già pronte per avere tutto il materiale necessario anche quando finirà il corso di connessioni angeliche bonus numero due come diventare un canale pulito lezioni aggiuntive per imparare ad elevare le proprie frequenze per uscire dall'ego valore 400 euro ecco valore cioè un valore grandissimo e questo ti verrà dato in dono ok quindi lezioni per uscire dall'ego ego superior ego inferior la differenza imparare il discernimento dei messaggi equilibrare il dare il ricevere come sviluppare la propria intuizione come elevare le proprie frequenze come diventare un canale pulito essere esempio di amore in terra ora vediamo il bonus numero 3 una sessione di coaching one to one con me ok più un mazzo di carte dell'arcangelo michele valore 300 euro ragazzi quando finirete completerete questo corso online di sei settimane avrete la possibilità di fare un'ora di coaching con me dove potrete confrontarvi forvi tutte le domande esercitarvi e io vi potrò aiutare a capire in che livello siete della vostra formazione spirituale ok bene quindi vediamo e sintetizziamo cosa cosa stai ottenendo da questo corso ok il corso dal vivo di sei settimane per imparare a connettersi con gli angeli a un valore a un valore di 1300 euro cioè si vale 1300 euro abbiamo visto il bonus numero 1 lezioni aggiuntive sulla protezione psichica più tutto il materiale didattico di un valore di 500 euro bonus numero 2 lezioni aggiuntive per imparare a diventare un canale pulito valore 400 euro bonus numero 3 coaching one to one con la stella più un mazzo di carte dell'arcangelo michele le carte sono per il momento di dor in virtù più avanti diciamo appena stamperò il mio mazzo di carte verrà dato il mio il mazzo di carte in dotazione per il momento utilizziamo quelle di dor in virtù dell'arcangelo michele e il valore è di 300 euro quindi il valore totale di tutto questo percorso meraviglioso è di 2500 euro ma quindi quale sarà l'investimento non sarà di 2500 euro e nemmeno di 1500 euro diciamo c'è un'opportunità speciale tutto questo per un investimento molto molto più basso ok perché lo faccio due motivazioni principali primo sarai seguita direttamente da me dal mio team e mi serve il tuo feedback per perfezionare questo lavoro il secondo cerchiamo nuovi casi studio sia nuove testimonianze legate a questo nuovo corso online così da mostrare la tua testimonianza legata la tua personale esperienza prossimo passo manda subito la tua candidatura clicca il pulsante qui sotto candidati e senza impegno puoi farmi tutte le domande che vuoi puoi ricevere ulteriori informazioni e questo se senti nel cuore che questa è la tua chiamata ascolta il tuo sentire l'unica cosa abbiamo solo dieci posti disponibili motivo numero uno io ed il mio team lavoreremo direttamente con te e ti dedicheremo tanto tempo motivo numero due nel corso online della durata di sei settimane voglio darti il massimo delle attenzioni lavorerai a stretto contatto con me è quasi un coaching one to one cioè hai la possibilità di imparare direttamente da me e pormi tutte le domande che vuoi e quindi essere seguita al cento per cento quasi come un coaching one to one per questi motivi questa opportunità è solo attraverso candidatura motivo a voglio essere sicura che questa sia la migliore soluzione per te motivo b passeremo tanto tempo insieme ok sono sei settimane e voglio essere sicura che sei una persona seria e che sei allineata agli insegnamenti dell'arcangelo michele cattive notizie dovrai agire in fretta dovrai agire in fretta perché accettiamo un massimo di dieci studenti per classe abbiamo bisogno dei feedback il prima possibile inizieremo entro due settimane ma dobbiamo sentirvi uno ad uno e quindi chiuderò le candidature entro pochi giorni non esiste garanzia io e il mio team dedicheremo tanto tempo ed attenzioni e quelle non sono rimborsabili ragazzi una sorpresa speciale che non vi aspettate solo perché agisce velocemente perché agisce velocemente abbiamo un extra bonus questo per chi si candida prima della fine di questo training per chi si candida prima della fine di questo training avrà in omaggio il corso scaricabile di connessioni angeliche del valore di 444 euro potrai connetterti con la piattaforma di connessioni angeliche avere questo corso reperibile tutto il tempo che vuoi con tutte le meditazioni tutte le preghiere con tutte le lezioni veramente un dono meraviglioso ora partirà il cant down ok quindi rivediamo velocemente la l'offerta quindi di questo meraviglioso corso è un corso dal vivo di sei settimane per imparare a connettersi con gli angeli col valore del valore di 1300 euro abbiamo visto il bonus numero uno lezione aggiuntive sulla protezione psichica più tutto il materiale didattico valore 500 euro bonus numero due lezione aggiuntive per imparare a diventare un canale pulito valore 400 euro bonus numero tre coaching one to one con rossella più un mazzo di carta dell'arcangelo michele valore 300 euro più la sorpresa il bonus numero quattro corso online scaricabile valore 444 euro quindi un valore di 2.944 euro per un investimento veramente molto molto più basso quindi ti consiglio di mandare subito la tua candidatura clicca il pulsante qui sotto e fissa un appuntamento con me sul calendario così possiamo parlare di questo percorso straordinario che potremo fare insieme io quello che ti consiglio di ascoltare il tuo cuore di ascoltare la chiamata del tuo cuore allora vorrei rispondere ad alcune domande perché che mi pongono molto spesso allora la prima è quanto dura il corso il corso dura sei settimane lavoreremo per circa due ore per lezione due ore due ore e mezza partiremo verso le otto e mezza di sera poi l'orario è flessibile nel senso che lo possiamo decidere anche insieme alla magari d'estate si può iniziare anche un pochino più tardi però comunque normalmente si inizia alle otto e mezza di sera è un lavoro interattivo perché ti eserciterai tantissimo con gli altri partecipanti del corso quindi imparerai a connetterti con i tuoi angeli a ricevere i messaggi per te stesso per te stessa ma anche a facilitare le letture angeliche sia con le carte sia con la scrittura espirata sia come connessione diretta per le altre persone quindi alla fine di questo corso tu sarai completamente autonoma autonomo e indipendente sarà in grado di facilitare le connessioni angeliche ok il percorso verrà fatto su zoom quindi dovrai scaricare questo programma sul tuo cellulare sul tuo pc o sul tuo tablet è molto semplice creerò un gruppo con massimo 10 partecipanti per classe invierò il link di zoom ogni settimana quindi basta cliccare sul link una volta che registrato l'applicazione entri nella stanza virtuale sei pronta per o pronto per intraprendere questo percorso meraviglioso insieme diciamo che tutti possono imparare a connettersi con gli angeli assolutamente sì ci sono persone più predisposte che hanno dei risultati immediati altre persone che hanno bisogno di un pochino più tempo ma in tutti i miei seminari devo dire la verità tutti sono sempre riusciti a connettersi tutti hanno avuto risultati straordinari di connessione di ricezione dei messaggi siamo sicuri che con la protezione ricevo i messaggi dei veri angeli di dio assolutamente la risposta è sì per questo io chiedo ai partecipanti ai miei studenti e studentesse di praticare tutte le preghiere che verranno date in dotazione a livello di purificazione di protezione di liberazione e di radicamento da fare ogni singolo giorno come preparazione energetica per questo percorso meraviglioso allora abbiamo parlato di valore ok il valore è quello che vale questo corso naturalmente il costo sarà un costo molto più basso veramente è un investimento per la tua vita è un investimento per per la tua crescita personale spirituale anche per la tua attività di operatore olistico olistico alla fine di questo percorso verrà rilasciato un attestato di formazione ok bene io spero di essere stata esaustiva nella presentazione di questo corso ci vediamo dall'altra parte mi raccomando non teme cioè non avere paura non ho timore o vergogna di contattarmi perché veramente io col cuore aspetto che mi chiami o che mi contatti per parlare insieme di questo percorso meraviglioso ascolta la chiamata della tua anima e questo il consiglio che sento di darti col cuore un abbraccio a presto tanta luce tanta benedizione a tutti voi ciao